e siamo qui alla fine siamo arrivati caro Ezio e siamo noi siamo i campioni della curva siamo noi dell'italia siamo noi tempi passati abbiamo le formazioni si abbiamo le formazioni ufficiali le formazioni ufficiali che scenderanno in campo dirette poi dall'arbitro maresca della sezione di napoli cominciamo con un tono strano cominciamo con la formazione dell'atalanta bergamasca calcio che per l'occasione è considerata squadra ospitante e quindi perché l'atalanta juve è atalanta juve sì e quindi carne secchi vero un p.m. jim city zappacosta pasalic ederson ruggerico manners look man decatelare allenato allenata da allenata una sede lo so che ci tiene gasperini juventus juventus per in portiere di coppa gatti bremer danilo meccanier abbiò gli interni di centrocampo in regia colussi caviglia mamma mia questa sera è di vivo perché piove da tre giorni è di vivo piove da giorni e quinto esterno quinto quinto di centro capo di destra cambiaso a sinistra il junior davanti chiesa e lauric per il più classico degli 8 1 1 esattamente 352 di forma che poi diventerà così lo chiamano non è così lato disegnato non mi chiedo nulla perché tutte le volte che te lo chiedo invece sì pronostico forse me l'hai chiesto in qualche video passato dal momento che gli ultimi degli ultimi due ho detto che la juve avrebbe vinto e non è di che per così di che per stavolta dico che vince l'atalanta 3 a 1 perfetto adesso al di là del giochetto che lascia il tempo che trova ecco io non sono d'accordo con quel vecchio logo abusato ma sempre attuale luogo comune in forza del quale le finali si vincono e non si giocano ma si vincono io spero che vinca la squadra che sul campo lo meriterà se poi vinceremo noi pur senza meritarlo la soddisfazione rimane comunque ma di bassissima di bassissima lega però ti dico guarda massimo la mia sensazione questa vera non sarà un massacro come sarebbe facile ipotizzare e perché perché l'atalanta ha dato il meglio di sé a maldeggiato soprattutto con le squadre che l'affrontavano giocando per vincere non è il nostro caso questo giocherà per pareggiare per arrivare calci di rigore e quindi improntata alla massima resilienza come ha detto danilo in conferenza stampa e quindi diciamo che l'atalanta troverà decisamente più lungo forse una finale di champions ti dirò ti direi che nei primi cinque minuti senz'altro subirai un gol è una finale di coppa italia per cui io ti dico che andremo in vantaggio e poi molto probabilmente ci ribaltano ci vediamo sappiamo che in chiaro la partita ma se avete voglia naturalmente nell'intervallo fra primo secondo tempo poi a seguire se volete naturalmente ascoltare i nostri commenti si possono magari vederlo e ascoltando invece ascoltando invece noi che anche più istruttivo ci vediamo dopo a dopo auk